Quella nero grosso dall'altro Guarda, ancora due Si, non dire Eh, questo non ci si piace Ah, dall'altra? E l'altra, buono Guarda, spero di uscienderti in qualche modo Fondamentale Fondamentale Adesso sei quattro 6.000 Cazzo La titanessa sarebbe rossa C'è un po' qualcuno Però quando... C'è un po' di questo affare Eh, passato Eh, ma ce l'avevo già in mano a lei Cioè, devo fare la brainstorm un po' di rosa Così attaccavo questa valida Eh, mi dimentico sempre Ancora un po' Eh, non chiedi sopra, vero? Sì, non puoi neanche tirare Ah, lo sparo? L'hai parato No, ecco, adesso di 4 ho preso E ma c'era il play in battaglia Ecco, ragazzi Hai detto che sei scusato? Vole il Yuki Dritto per tre C'è capi Ciao 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 Senti, mi difendi in cara Per la tua ricerca Sì, ma la chiesa Senti, in che serie Mando in memory Sì, in questo modo Ti furo, li comprimi Sì, vabbè Tanto è, con un po' di questo refresh Non sto pensando se farla pagare a 2 per la reale Ma non penso che ti convenga Vantare a mandare in casa Aspetta Eh, un po' di questo Tre Cinque Sei Sette Un po' difficile colpa No, no Non posso che vado Anche nel mio papunti che vanno 3,3,2,4,5 di refresh Passo e spacco la climax Sì, memory Ci vuoi essere Un po' di un dare No Se prende un dare Non mi cura in mano lei Non mi cura in mano lei Non mi cura in mano lei Non mi cura in mano Ho scartato una ram Non mi cura in mano Non mi cura in mano Non mi cura in mano Eh, vabbè Dove devo andare Eh, vabbè La valli si curano strage E io ce l'ho lì Non mi cura in perda Beh, siamo... Lei si cancel di chi La io ho 3 Eh, sì Quello per forse No, a 5 Altre 4 punti Sì, cazzo Su 3 Ma io ho preso Una parata Hai fatto 2 1 2 Però alla fine Se io porto via dei punti grossi Alla fine va bene Fare top 8 Cioè se è sempre lo stesso Che porto via dei punti grossi Fare top 8 diventa sufficiente Sì, sì Danno di refresh L'animo 6 Nel menato per 3 Ma bene La facciamo facile Non ti basta Tanto 6 Ehi, non è vero Non so Non è vero Non è vero Non è vero Ciao 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 Davvero Fianna Cosa ti ha detto Fianna Eh, lo so Vi ho ancora contatti Sì, è fuori Sua, matematica Non posso VK Grande Allora Allora Stimo puoi vedere Se mille VK E per colpo Magico 4 Se c'è Peronica Ah, le Lidia Questo che sia l'ufficio Della Giorgio Alla millata è prima Ma sta giocando No, finito Dichiara una bomba Dice Mentre che uno Non dichiarava come trese Mi gira subito la carta Non è vero 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 Devo aspettare Il colpo a sua Ok, no È un stupor Perché molti lo fanno Di fatto Mi spiace Mi sta proprio Un incenso Eh, però è sfigato Infinito Sulla Ho girato doppio climax di Emilia Infatti non mi aspettavo che mi lassi 4 E dopo che ho visto il primo ho detto Boh, cioè Tant'è dentro ancora 3 o 4 Non so No, però è il problema che mi son tolto Tipo Sì, quello di stock Prima di partire con la combo Avevo fuori 3 climax In totale ne avevo 3 Per l'altro finito 1 ne avevo 2 Non è vero Bello L'ho fatto moda Emilia Quindi non è comacinato esatto quanto Mi fate le spiegature No Già in razione